Salve, nel video passato vi ho parlato di un argomento di cui vi avrei parlato in seguito più approfonditamente. L'argomento era quello dei metamateriali. Ho deciso di parlare di questo argomento che è attinente al campo dell'ottica, dell'elettromagnetismo, però rappresenta anche una specie di applicazione pratica molto interessante, un'applicazione tecnologica, che ha molti risvolti interessanti per certi versi quasi fantascientifici. Vi accennavo nel video precedente all'applicazione per realizzare uno schermo dell'invisibilità, una specie di mantello dell'invisibilità, e questo si può ottenere con metamateriali realizzati opportunamente. Vi ho detto che è un argomento che richiede molto approfondimento, per questo ho deciso di documentarmi per bene e raccogliere abbastanza materiale prima di parlarvene, però ho anche deciso che il materiale che avrei dovuto esaminare per affrontare l'argomento nel suo complesso è troppo grande, quindi ho deciso di affrontarlo per parti, per capitoli. Quindi oggi vi parlerò dei metamateriali con indice di rifrazione negativo, quindi n minore di zero, che sono quelli forse più difficili da realizzare, ma anche quelli che hanno l'applicazione più interessante, quella appunto della realizzazione di un mantello dell'invisibilità. Oggi vi parlerò più della teoria e anche degli sviluppi, quindi i progressi che sono stati fatti dai primi prototipi, dai primi calcoli teorici, dalle prime verifiche sperimentali, più o meno fino ai giorni d'oggi, anche se sullo stato attuale delle cose non mi sono informato approfonditamente, ho solo dato un'occhiata ad alcuni articoli recenti che mostrano alcuni dei più recenti sviluppi appunto. Ho deciso di sviluppare la cosa in una maniera abbastanza sistematica, quindi ho preparato delle slide, spero che la cosa non sia troppo noiosa, assumerà un po' l'aspetto di una lezione, però cercherò di non renderla troppo pesante. Mi serve l'ausilio delle slide per non perdermi e per non dimenticare dei dettagli importanti, alla fine vi lascerò anche una bibliografia se volete approfondire. Quindi oggi vi parlerò dei metamateriali con indice di rifrazione negativo, la mia intenzione, la mia, come dire, il mio progetto è quello di portarvi anche quelli con indice di rifrazione circa zero, near zero, e poi quelli iperbolici e poi eventualmente anche altre applicazioni, però si vedrà se ne avrò il tempo e anche la voglia, quindi adesso andiamo alle slide. Prontare l'argomento dei metamateriali e l'indice di rifrazione negativo mi sembra necessario ricordare cos'è la rifrazione della luce, perché non è, non do per scontato che tutti sappiano cos'è. Chiaramente si parla di propagazione della luce attraverso dei mezzi materiali e in particolare la transizione, diciamo, tra un mezzo all'altro provoca una deflessione dei raggi luminosi. In un video precedente di qualche tempo sulle lenti di Fresnel avevo ricordato la legge di Snell, che è la legge che regola appunto la rifrazione dei raggi luminosi al passaggio da un mezzo all'altro, per esempio dall'aria al vetro, dall'aria all'acqua. E avevo fatto l'esempio della lente, la lente è uno strumento che usa proprio la rifrazione dei raggi luminosi per convergere, per far convergere la luce su un punto, oppure per ingrandire delle immagini. Quindi il principio della rifrazione è questo, un raggio che entri con un certo angolo rispetto a un'interfaccia che separa due mezzi diversi, per esempio l'aria e l'acqua, viene deflesso rispetto alla direzione perpendicolare con un angolo ben preciso, chiamiamo θ1 e θ2 gli angoli rifratto e l'angolo incidente, vale la legge di Snell che lega appunto l'angolo rifratto rispetto all'angolo incidente tramite gli indici di rifrazione n1 e n2. Per ora vi do solamente questa legge di Snell, l'indice di rifrazione sono numeri, quantità, che caratterizzano appunto le proprietà ottiche dei mezzi. Quindi la deviazione della luce avviene all'interfaccia tra due materiali, non all'interno del materiale. Se l'indice di rifrazione è uniforme all'interno del materiale, all'interno il raggio si propaga in linea retta. In particolare l'angolo formato con la perpendicolare alla superficie di separazione si trova opposto rispetto ad essa, quindi si vede che il raggio prosegue deflettendosi, ma prosegue sempre nella stessa direzione. Cosa succede con i metamateriali? Con i metamateriali possiamo avere questo effetto interessante, l'indice di rifrazione è negativo. In tutti i materiali che sono trasparenti alla luce o alle onde elettromagnetiche naturali, l'indice di rifrazione è positivo e per la legge di Snell significa che l'angolo rifratto si trova dalla parte opposta rispetto alla perpendicolare rispetto alla superficie di separazione, quindi il raggio prosegue nella stessa direzione ma con una deflessione. L'indice di rifrazione negativo permette di avere una rifrazione inversa, quindi l'angolo di rifrazione si trova riflesso simmetricamente rispetto alla perpendicolare e si ottiene quindi questa situazione sulla sinistra. Ora perché è interessante? Perché, come accennavo anche nel video precedente ma ve lo ricordo oggi, il fatto che la luce venga deflessa in direzione opposta rispetto a quella incidente permette di realizzare una situazione in cui i raggi luminosi vengono deflessi via dall'oggetto. Supponiamo di circondare un oggetto, qua nell'immagine una mela, con uno shell, quindi un guscio, con un indice di rifrazione negativo. I raggi luminosi possono essere deflessi via da questo oggetto e se questa cosa viene realizzata in maniera opportuna possono piegare intorno all'oggetto e un osservatore che si trova a valle, quindi in ombra rispetto a questo oggetto, non lo vede perché i raggi luminosi li scorrono intorno. Questo è il principio che sta alla base di questa tecnologia. Come mai è difficile realizzare questo? Perché appunto in natura non ci sono mezzi che abbiano un indice di rifrazione negativo. Qui viene mostrato anche in questo cerchiolino un'idea di come effettivamente questa condizione si possa realizzare tramite delle strutture conduttrici, che sono costituite in particolare da questi annellini e da queste barre verticali, che costituiscono un po' la struttura del metamateriale. Adesso andremo un po' a esplorare come mai. Prima però richiamo cos'è l'indice di rifrazione, che è un concetto che vi ho introdotto così senza particolari preamboli. Caratterizza le proprietà ottiche di un materiale, però da dove viene? Deve venire da qualcosa di più fondamentale. La luce è un'onda elettromagnetica, quindi l'indice di rifrazione deve seguire dalle proprietà elettromagnetiche del materiale. Infatti è una risposta dei mezzi materiali alle onde elettromagnetiche, ma questa si compone di due parti, una permettività elettrica, indicata con epsilon, e una permeabilità magnetica, indicata con mu, e queste chiaramente sono associate alla propagazione del campo elettrico e del campo magnetico. Epsilon e mu sono quantità che tipicamente si assumono reali. Ora, quantità reali associate alla propagazione dell'onda significa che appunto l'onda si propaga. Invece le quantità immaginarie sono associate a un'onda evanescente, quindi un'onda che si smorza, la cui energia diminuisce esponenzialmente nel tempo. In generale sia epsilon sia mu hanno sia una componente reale sia una parte immaginaria, perché i campi in ogni caso hanno una parte propaganda e una parte invece che si dissipa, quindi una parte evanescente. L'indice di rifrazione si calcola, a partire da epsilon e mu, come semplicemente la radice quadrata del prodotto, radice di epsilon per mu. Ora, di solito, quando si parla di mezzi di elettrici come il vetro, l'acqua, cose del genere, la risposta magnetica, quindi la risposta ai campi magnetici è molto debole, quindi mu è circa 1, e l'unica, diciamo così, risposta alle onde elettromagnetiche è dettata da epsilon. Però questo non è sempre il caso, in particolare nei metamateriali si cerca appunto di indurre una risposta magnetica oltre che a una risposta elettrica. Per esempio nei plasmi la risposta dielettrica è molto complessa, la risposta magnetica invece tipicamente si ignora e si pone mu uguale 1, però in generale epsilon e mu contano entrambi. Ora, si possono realizzare delle strutture che sono delle specie di piccoli circuiti elettrici o elettromagnetici che hanno una risposta in frequenza, una risposta rispetto al campo elettrico e al campo magnetico, che ha questa forma. Questa è una forma abbastanza generale che è una risposta in frequenza con un termine risonante. Le frequenze che entrano qua sono la frequenza dell'onda omega, la frequenza di plasma che è una frequenza dei moti degli elettroni nel metallo, che è legata sostanzialmente alla densità ma si può anche modificare alterando la forma del conduttore. E omega 0 invece è una frequenza risonante tipica. Quello che si fa tipicamente è cercare di realizzare una situazione del genere dove epsilon e mu sono funzioni di omega con una risposta risonante e queste costanti dielettrica e diamagnetica, quindi permettività e permeabilità, mostrano una forma risonante. Qui sulla destra viene mostrato un esempio, si vede che c'è un cambiamento repentino quando si passa questa risonanza sia in epsilon sia in mu e si vede che entrambi cambiano segno, quindi c'è un range di frequenze intorno alla risonanza in cui questi cambiano segno. E quindi questo è il senso, quindi si cerca di realizzare una condizione in cui sia epsilon sia mu siano negative in un certo intervallo di frequenza. In verità dalla formula qua n uguale a radice di epsilon per mu può sembrare che se entrambi sono negativi il loro prodotto è ancora positivo e quindi n è positivo, ma Veselago, uno scienziato sovietico che negli anni 60-70 studiò la cosa, dimostra invece che se questa circostanza si verifica anche n deve essere negativo. A questo punto come si ottiene un indice di rifrazione negativo. Appunto dicevo che Veselago, che pubblicò su questo giornale sovietico di fisica sovietica nel 68, dimostrò che n minore zero può essere ottenuto se epsilon e mu sono simultaneamente negativi. Egli predisse anche tutta una serie di proprietà interessanti che seguono questa condizione, tra cui la propagazione con un angolo di deflessione negativo, la possibilità di realizzare superlenti, tutte cose che vedremo più o meno, però non poteva dimostrarlo perché allora la tecnologia per realizzarlo non era disponibile. Invece a partire più o meno dagli anni 2000, ma anche fine anni 90, si riuscì a realizzare la configurazione che Veselago aveva predetto e si riuscirono a vedere le prime proprietà appunto non usuali. Ora bisogna avere sia epsilon sia mu negativi, ma l'epsilon minore di zero è più semplice da realizzare. Infatti tutti i metalli hanno una risposta in frequenza che è funzione della frequenza e dipende dalla frequenza di plasma. Quindi in poche parole se la frequenza è minore, la frequenza dell'onda è minore della frequenza di plasma, il metallo risulta opaco, è un indice di rifrazione negativo. Se invece la frequenza è maggiore, l'indice di rifrazione è positiva. Se c'è anche una frequenza risonante, epsilon sarà negativo in un range di frequenza anziché per tutte le omega minori della omega di plasma. Il problema è realizzare un mu minore zero, quindi una permeabilità magnetica. Questa condizione mu minore zero si può ottenere usando questo interessante dispositivo che si chiama split ring resonator. Sarebbe un anello risonante tagliato con uno split, con un gap. Questo strumento realizza, effettivamente lo mostrerò più esplicitamente nella prossima slide, l'equivalente di un circuito LC, quindi un circuito risonante con una induttanza e una capacità. Induttanza e capacità sono quantità che caratterizzano i circuiti elettrici e sono una risposta sostanzialmente al passaggio di corrente e all'accumulo di carica, quindi sono associate a induttanze e condensatori. Chiaramente realizzare induttanze e condensatori di dimensioni molto piccole non è pratico, però si vede che questa configurazione particolare effettivamente possiede queste capacità. Oltretutto è possibile realizzare questi circuitini, sostanzialmente, di dimensioni molto piccole tramite delle tecniche di fotolitografia con deposizione di metallo su substrati, quindi sono tecniche litografiche o laser che possono permettere di realizzare strutture estremamente piccole. Ora, questi split ring resonator si comportano come circuiti LC perché in presenza di un campo magnetico perpendicolare a questa spira, sostanzialmente metallica, si induce una corrente al suo interno che circola e il campo magnetico che questa corrente genera per la legge di Lenz è opposto a quello che l'ha generato, per la legge di induzione elettromagnetica. La capacità serve per generare una risposta risonante. Questi annellini microscopici vanno realizzati in una matrice, in un array, in modo da generare una specie di risposta su una grande superficie, diciamo quindi una risposta globale del mezzo, e si possono realizzare di dimensioni molto piccole. Nel corso degli anni, ma anche nel giro di pochi anni, l'accuratezza nella realizzazione di queste strutture ha raggiunto dei livelli molto elevati di questi oggettini che, seppure non hanno più esattamente la forma originale, conservano le stesse proprietà e sono di dimensioni addirittura nanometriche. Quindi, dicevo, questi split ring resonator, split resonator ring, si comportano come circuiti LC. L'idea alla base è che bisogna cercare di creare l'analogo di un atomo magnetico. Detta così può sembrare una cosa senza senso, cosa vuol dire un atomo magnetico? Appunto, l'idea è quella di fornire una risposta diamagnetica nel mezzo, realizzando, quindi con qualcosa che si opponga al campo magnetico dell'onda, però realizzandola artificialmente, perché di solito la risposta diamagnetica nei mezzi è molto più piccola di quella di elettrica, quindi non si può ottenere normalmente, bisogna realizzare queste strutture. Qui alla sinistra si vede la schematizzazione di questo anellino in forma appunto di capacità C e di induttanza L. Oltretutto sono state tentate altre vie, quindi altre possibili configurazioni, come per esempio questa dove c'è questa porzione centrale, che ha proprio l'aspetto di un condensatore, sembrano proprio le due piastre del condensatore. Oppure si è provato a realizzare degli anelli con più fessure, anziché una sola, con due o con quattro. L'idea è che in questa maniera si possono accoppiare più efficacemente questi anellini disposti in una matrice, perché si comportano proprio come un circuito risonante LC globale, dove la corrente scorre in tutto il circuito, anziché in un singolo anellino. Adesso la sfida consiste nel spostare la risonanza di questi circuitini verso frequenze sempre più alte. Questo comporta che questi anellini, questi split di ingresso netto, devono essere sempre più piccoli, perché tipicamente la lunghezza d'onda della radiazione con cui interagiscono è dell'ordine delle loro dimensioni spaziali. Per esempio, per microonde abbiamo lunghezze d'onda del centimetro, possiamo realizzarli tranquillamente. Se però ci spostiamo nel range dei terahertz, o addirittura centinaia di terahertz, quindi nella luce visibile, ecco che le dimensioni diventano nanometriche e quindi, come dire, le tecniche anche litografiche per realizzarli diventano molto più difficili. Comunque si vede che qua sono stati fatti di passi avanti, tra l'altro nell'arco di pochi anni, si è passati da 100 gigahertz, che quindi sono microonde di alta frequenza, i terahertz, centinaia di terahertz, e qua si vede che si sta raggiungendo più o meno il limite della risoluzione, dell'accuratezza di queste tecniche litografiche. E qui si vedono alcuni esempi di risposta in frequenza, o se preferite in lunghezza d'onda, quanto riguarda la trasmittività o la riflettività di questi elementi, di questi split-link resonator, in funzione appunto della frequenza o della lunghezza d'onda, perché questo evidenzia la presenza di risonanze. E questo viene testato anche per diverse polarizzazioni dell'onda elettromagnetica, quindi per diverse orientazioni del campo elettrico. E si vede che a seconda che il campo elettrico oscilli in una direzione o nell'altra rispetto alla forma geometrica di questi oggettini, si vedono dei picchi e delle valli diverse in queste funzioni di risposta, quindi si vede che le risonanze si spostano. Lo stesso vale per le permeabilità e la permettività, quindi le due caratteristiche diciamo elettromagnetiche del mezzo. Anche qui si vede la presenza di una risonanza e il comportamento per valori negativi per frequenze vicine alla risonanza. Adesso sono state poste delle obiezioni, quindi delle critiche, all'esistenza dell'effettiva propagazione di onde per n minore 0, quindi alcuni scienziati hanno messo in dubbio l'efficacia, la fattibilità di questo. Prima obiezione, posta in questo lavoro, si proponeva quest'idea, cioè che la propagazione in questi metamateriali non esiste perché l'indice di rifrazione ha una grossa parte immaginaria, che come ho detto è associata alla dissipazione e questo sarebbe vero soprattutto per alte frequenze, quindi vicine al range ottico. Questo ovviamente se c'è troppa dissipazione l'onda non è più propagante ma è evanescente, quindi non è effettivamente, non si presta all'uso. La risposta viene in questo lavoro dell'anno successivo. Pare che invece sì, l'onda si propaghi e questo è stato anche osservato sia in esperimenti sia in simulazioni. Quest'immagine mostra l'intensità del campo elettrico, l'ampiezza del campo elettrico osservato in seguito a un apparato sperimentale dove c'era un campione di metamateriale con indice di rifrazione negativo e un campione di teflon che è un materiale con indice di rifrazione positivo per confronto e si vede che gli angoli di rifrazione sono opposti per il teflon è positivo e per questo altro materiale è negativo. Oltretutto questo è stato messo a confronto con delle simulazioni con un codice elettromagnetico che si chiama mafia, il quale mostra che c'era un buon accordo, quindi questo mostra che questo setup, questa realizzazione si può effettivamente effettuare. Un'altra obiezione che è stata fatta in questo altro lavoro, cioè che per quanto la velocità di fase sia negativa, quindi contraria a quella di un mezzo ordinario, la velocità di gruppo che invece è associata alla propagazione dell'energia dell'onda è positiva. Questo significa che la fase dell'onda si propaga in un verso e l'energia dell'onda nel verso opposto e secondo questi autori questo avrebbe comportato una forte dispersione dell'onda, vale a dire che il fronte dell'onda che caratterizza una superficie a fase costante si sarebbe spezzettato, frantumato, quindi in definitiva l'onda non sarebbe stata propagante ma si sarebbe dissipata o comunque si sarebbe dispersa, ecco forse più dispersa. La risposta però viene in quest'altro lavoro addirittura dello stesso anno in cui hanno fatto sia esperimenti sia simulazioni di propagazione in questi mezzi con indice di rifrazione negativo per due diverse frequenze, quindi un segnale con due frequenze abbastanza vicine e hanno osservato effettivamente che c'è dell'interferenza per cui le due frequenze si propagano in maniera leggermente diversa, però complessivamente la fase e l'energia dell'onda si propagano nella stessa direzione, quindi il fatto che la velocità di gruppo sembri propagarsi nella direzione opposta in verità si media via, cioè si cancella questo effetto se si media su un tempo sufficientemente lungo, quindi anche questo dimostra che è la fattibilità di questo sistema. A questo punto però ci sono obiezioni concrete, purtroppo c'è un limite invalicabile che è quello delle alte frequenze, infatti si è osservato che la risposta lineare di questo split ring resonator per quanto riguarda la risonanza cessa a frequenze sufficientemente alte, centinaia di terahertz, che sfortunatamente sono l'ordine delle frequenze della luce visibile, quindi significa che al di sopra di queste frequenze questo sistema non può più funzionare, almeno non altrettanto bene. La causa principale è la presenza dell'energia cinetica degli elettroni che non è più trascurabile, quindi la risposta non è più lineare ma diventa non lineare. Questo si verifica soprattutto se gli anelli, questi split ring resonator diventano troppo piccoli e questo quindi segna un limite per la frequenza massima che è possibile raggiungere, diciamo, a cui è possibile risuonare con questi circuiti data la loro dimensione. Ecco, questa indicata in X c'è l'inverso della dimensione, quindi al crescere di questa quantità gli anellini si fanno più piccoli. Ora, questo è stato tentato anche con diverse configurazioni, quindi con multipli split, quindi con anelli che hanno più fessure anziché una sola, si è vista che per quattro fessure, che è questo modello qua, si raggiungono frequenze più alte. Questo perché evidentemente l'inerzia degli elettroni, che gioca appunto questo ruolo non lineare, appunto è meno influente, è meno efficace se l'anello viene diviso in più parti. Però purtroppo c'è un limite invalicabile. Allora cosa si può fare? Se noi vogliamo ottenere l'invisibilità ottica, quindi frequenze della luce visibile, dobbiamo sostituire questi split ring resonator con qualcosa di più semplice evidentemente. Siccome dividere l'anellino in più parti pare avere un effetto migliore, quindi portare dei vantaggi, si è pensato di sostituirli, di sostituire questi anellini con dei nano rods, quindi dei bastoncini di dimensioni nanometriche, decino, centinaio di nanometri o addirittura con dei fori praticati in un sostrato di materiale conduttore. L'effetto è lo stesso perché diciamo che la presenza di un gap ha lo stesso effetto di un condensatore, quindi fornisce una capacità, invece la parte conduttrice fornisce la parte di induttanza. A seconda dei casi uno può realizzare una o l'altra configurazione. Comunque è molto più semplice realizzare questi nano rods invece degli split ring resonator e anche l'accuratezza risulta più semplice, diciamo, risulta migliore. L'idea è creare delle alternanze tra elementi conduttori che possono essere per esempio di oro, argento, rame o comunque metalli molto conduttori e materiali dielettrici. Visto che queste tecniche di fotolitografia, di posizione nanometrica, si possono realizzare appunto dei layer molto sottili e questo si è dimostrato che effettivamente questo può portare materiali con indice di rifrazione negativo nelle frequenze ottiche, anche se non so se sono ancora visibili oppure nel vicino infrarosso. Ora, potrei, avrei potuto esplorare dei lavori più recenti per vedere qual è effettivamente lo stato dell'arte e dell'ottica, però questo mi avrebbe portato molto lontano, anzi se dagli inizi degli anni 2000 fino al 2006-2007 ci sono già stati decine o centinaia di articoli, penso che negli ultimi anni ce ne siano altrettanti se non di più, anzi penso che ci sia stata una crescita esponenziale, per cui mi sono limitato a riportare qui alcuni ulteriori sviluppi e applicazioni. Un'applicazione molto interessante è quella alle superlenti che accennavo all'inizio, quindi questi materiali con n minore 0 permettono di realizzare delle lenti speciali che permettono di risolvere dettagli, quindi di visualizzare, di osservare dettagli inferiori alla lunghezza d'onda della luce, e questo è un limite che tipicamente è un limite di diffrazione, un limite invalicabile sostanzialmente per tutti i mezzi ordinari, ma che si può ovviare, bypassare con questi metamateriali. E oltretutto questi mezzi con n minore 0 amplificano le onde evanescenti, che sono quelle componenti dell'onda che decrescono esponenzialmente nel mezzo. Amplificare le onde evanescenti consente di recuperare molta parte di informazione sull'oggetto che si osserva, che altrimenti andrebbe perso, perché queste onde si smorzano esponenzialmente. Ora, tra gli sviluppi più recenti c'è quello ovviamente di cercare di raggiungere l'invisibilità nel range ottico. E questo si cerca di raggiungerlo con dei metodi avanzati, che quindi non si limitano a stampare questi minuscoli circuitini, o con gli splittering resonator, o con dei nanorods, ma che usano anche tecniche più avanzate. Per esempio in questo studio si usano materiali multistrato, che sono alternanze di materiali con indice di rifrazione diverso, per esempio materiali trasparenti oppure riflettenti, quindi metallici, per curvare la luce intorno agli ostacoli. E qui sono stati ottenuti dei risultati. Altrimenti si possono applicare queste unità di base elementari, come gli splittering resonator, però configurabili, quindi la cui configurazione si può modificare in modo attivo per adattarsi a diverse lunghezze d'onda, per ottenere per esempio metamateriali che funzionino sul largo spettro, quindi su uno spettro vasto di lunghezze d'onda, anziché essere risonanti su una singola frequenza. Infine si è cercato di utilizzare questa combinazione di transformation optics, che è un metodo matematico che viene applicato per sostanzialmente trasformare un dominio, quindi una regione di spazio, tramite delle trasformazioni coordinate, che questo richiama anche le trasformazioni conformi dell'analisi complessa, penso che questa transformation optics faccia uso di trasformazioni conformi, e anche l'uso di materiali optic null, che significa con zero indice di rifrazione, che è qualcosa di cui voglio parlarvi in seguito perché hanno delle proprietà molto particolari, tra cui vi anticipo il fatto di permettere la propagazione di un segnale senza che questo vari la sua fase, perché un indice di rifrazione zero è sostanzialmente uniforme rispetto all'onda, quindi l'onda si propaga, arriva da un'estremità all'altra di questo materiale senza variare la sua fase. Quindi l'uso di queste transformation optics insieme a materiali optic null permetterebbe di realizzare anche queste delle configurazioni che permettono la invisibilità ottica. Ora questo è uno slide che preferisco lasciarvi, se volete fate uno screenshot, la bibliografia parziale, diciamo, che ho impiegato per raccogliere questo materiale. Per la verità, la fonte principale è questo primo lavoro, che è un articolo di review del 2006, Negative Refractive Index Metamaterials, che poi rimanda a molti altri, che quindi sono delle specie di approfondimenti. Fortunatamente quasi tutti sono dei physical review letters, che sono articoli brevi, o articoli di science, che sono comunque brevi, quindi globalmente la quantità di pagine da leggere non è eccessiva. Non mi piace trarre conclusioni semplicemente da questo materiale che ho raccolto, perché non ci sono delle vere e proprie conclusioni, se non il fatto che in un arco di anni veramente breve sono stati fatti un sacco di progressi e questi progressi stanno continuando tutt'oggi con tecniche sempre più avanzate e verosimilmente si raggiungerà presto l'invisibilità ottica, se non broadband, quindi su ampia gamma, su ampio spettro, per lo meno per certi intervalli di lunghezza ed onda, che avranno certe applicazioni. L'applicazione delle superlenti si sta già impiegando e quindi per quanto meno una previsione teorica che era stata fatta addirittura 30-40 anni fa, oggi sta trovando conferma, l'invisibilità ottica sembra portata di mano. Quindi in questa specie di overview, in questo seminario che vi ho offerto, ho cercato di darvi quante più informazioni pratiche, anche utile per capire la fisica che ci sta dietro, quindi il concetto di questi splittering resonator, la risonanza, l'indice di rifrazione, permeabilità, permettività e vi ho fornito anche una buona bibliografia, qualora vogliate approfondire. Per i prossimi approfondimenti, quindi l'indice di rifrazione circa zero e i materiali perbolici, non so se riuscirò a fare un lavoro altrettanto rigoroso e completo, però cercherò di fare del mio meglio, quindi spero che questo video vi sia piaciuto e se la cosa vi interessa non perdetevi il prossimo. Arrivederci al prossimo video, ciao ciao!